Eccoci nuovamente insieme per lo svolgimento di un nuovo video tutorial, questa volta dedicato a una particolare funzionalità di Windows, si tratta della cosiddetta sincronia file. Per fare questo esercizio non abbiamo bisogno di installare alcun software, perché appunto si tratta di una funzionalità del Windows XP interna al sistema operativo e quindi pur senza installare nulla, tutto funzionerà correttamente. Per questo esercizio nel mio disco locale, in C2 punti, ho creato una cartella di nome archivio, la cartella archivio supponiamo che sia quella che contiene i nostri dati più importanti, fotografie, file di Word, file di Excel, magari anche filmati, musica, varie cose nostre personali. In questo caso io ovviamente qui dentro ho messo solo poche cose, tre file di tre tipi diversi, un PowerPoint, un Word e un Excel, però in realtà avrei potuto mettere migliaia di file, soprattutto organizzati sotto forma di cartelle e sotto cartelle. Questo non cambierebbe di una virgola la procedura che dobbiamo eseguire. Ovviamente questa cartella archivio io l'ho creata in C2 punti, ma avrei potuto crearla ovunque, anche su un disco esterno, o forse sarebbe stato più corretto crearla sulla seconda partizione del mio hard disk, cioè su di due punti, ma anche questo non cambierebbe di nulla ciò che stiamo per fare. Quindi in questo caso l'abbiamo creata in C, quindi il percorso della cartella di cui andremo a fare una copia di backup è C2 punti archivio, eccolo qua il percorso. A questo punto ho anche inserito nel computer la mia pennetta USB, che è questa, viene riconosciuta con la lettera G2 punti in questo caso e questo è il nome che io stesso ho desiderato dare nel momento in cui ho formattato la penna. Nella penna ci sono già altri file, ma che non vanno ad influenzare il lavoro che devo fare. A questo punto, siccome la penna verrà utilizzata come destinazione del backup, quindi di questa copia di riserva, qui dentro vado a cliccare file, nuovo, non cartella e attenzione, bensì sincronia file, quindi ripeto, file, nuovo, sincronia file. In realtà sto creando comunque una cartella, ma si tratta di una particolarissima cartella, con delle funzionalità molto importanti. In pratica la cartella sincronia file, che adesso andremo a rinominare, anche se questo non è indispensabile, avrà la capacità di rimanere sempre legata e quindi sempre in sincronia con la cartella originale da cui deriva il backup. Vado a cliccare tasto destro, rinomina, per cambiare nome, ripeto, questo non è indispensabile, ecco la chiamo backup archivio, non è indispensabile, ma certamente rende il tutto più ordinato. Invio, ecco qui, quindi backup archivio è il nome adesso della nostra cartella di sincronia file, ed è ovviamente una cartella vuota. Se la apro, ecco, essendo la prima volta che la apro, in realtà appare questo elenco di istruzioni, ma poi non apparirà più, ora clicco fine senza problemi e vi faccio vedere, tornando indietro e riaprendo la cartella backup archivio, è una cartella vuota, l'elenco delle istruzioni non appare più, quello appare solo la prima volta. Ecco, a questo punto, magari questa finestra la sposto un attimo e andiamo ad aprire una nuova istanza di risorse del computer e dove mi vado a posizionare in C2 punti, dove sta la mia cartella, quella di cui voglio fare una copia di riserva, una copia di backup. Ora, questa cartella va copiata con tutto il suo contenuto, quindi tasto destro, copia, va bene? Copia. A questo punto, magari questa finestra la vado un po' a ridurre, ecco qua, in maniera tale che posso avere una doppia visuale, ma anche questo non è indispensabile, lo faccio ai fini di questo filmato perché tutto sia più chiaro, ma ovviamente potevo benissimo chiudere questa finestra per poi tornare in quest'altra. Quindi poco fa ho fatto tasto destro copia sulla cartella archivio in C2 punti, vado invece in C2 punti backup archivio, ossia in pratica sto, ecco torno un attimo indietro, sono inizialmente entrato nella mia penna USB che è questa e ci entro. Ci sono varie cose tra le quali c'è anche la cartella di sincronia file che ho chiamato backup archivio, la apro, è vuota, avevo precedentemente copiato la cartella archivio, quindi ora vengo qui e la incollo, un semplicissimo copia e incolla. Ci sarà da attendere qualche istante perché venga effettivamente creata la copia di backup. E quindi ora, come vedete, in C2 punti ho la mia copia originale della cartella archivio e in G2 punti backup archivio, quindi nella mia pennetta e nella cartella di sincronia file, ho una copia di backup. Guardate come qui in questa colonna dice copia sincronizzata in C2 punti, cioè la cartella backup archivio che contiene la cartella archivio, si ricorda che l'originale con il quale poi bisognerà sincronizzarsi sta sempre lì in C2 punti. ed attualmente dice stato aggiornato perché ovviamente riconosce che non ci sono differenze tra la copia originale che è questa e la copia sincronizzata che è quest'altra. A questo punto supponiamo che siano passati alcuni giorni e che in questi giorni io abbia apportato delle modifiche ai file contenuti in Carchivio. Ad esempio potrei aprire il file lettere commerciali che è un file di Word e anche il semplice fatto di cambiare una data è ovviamente una modifica. Ecco qui. Quindi vado a salvare e poi chiudo. In sostanza il file lettere commerciali è stato modificato e quindi la sua copia in backup archivio non è più sincronizzata adesso. Poi potrei per esempio cancellare un altro dei file presenti. Ecco, cancello il file spese condominali. Quindi faccio tasto destro ed elimina per eliminarlo. Spostare spese condominali nel cestino? Rispondo di sì. E quindi è sparito il file spese condominali. mentre potrei decidere di creare un nuovo file e salvarlo qui dentro. Quindi magari riduciamo un attimo a questa finestra. Apro per esempio di nuovo Word. Scrivo un altro testo. E lo salvo. Ecco qui. Lo salvo sempre in C2.archivio. Quindi vado a disco locale C2.apro archivio e salvo con il nome prova. Benissimo. Salva. Quindi adesso chiudo il Word. Avevo ridotto ad icona la cartella archivio. La riapro e come vedete non c'è più il file di Excel perché l'ho cancellato ma c'è questo nuovo file prova. Quindi ricapitolando abbiamo apportato una modifica a lettere commerciali. Abbiamo cancellato il file di Excel che c'era e abbiamo aggiunto un nuovo file di Word. Se adesso tornando qui nella mia pennetta che potrei aver disinserito e reinserito dopo una settimana, apro la cartella archivio tutti questi aggiornamenti non ci sono. Infatti guardate come esca automaticamente scritto che lettere commerciali è un file da aggiornare e anche spese condominali in realtà sarebbe da cancellare però qui la scritta dice da aggiornare. Allora cosa faccio? Ecco facciamo proprio in questa maniera. Chiudiamo tutte le finestre. Supponiamo di aver inserito la pennetta dopo alcuni giorni quindi apro nuovamente risorse del computer. La finestra la vado ad allargare per avere una visuale più completa. Entro nella mia pennetta e vado con il tasto destro senza aprirla con il tasto destro sulla cartella di sincronia file per cliccare aggiorna. Clicco aggiorna, attendo qualche istante, ovviamente nel caso di grosse quantità di dati l'attesa sarebbe più lunga e qui c'è l'elenco delle modifiche da sincronizzare. Ecco sono tre. Prova doc dice in sincronia file non esistente e quindi si tratta di un nuovo file che va creato. Questa è l'azione che verrà eseguita. Lettere commerciali è un file che in sincronia file non è modificato dal 21 giugno mentre in Carchivio, cioè nell'originale, risulta modificato l'ultima volta il 6 luglio e quindi di conseguenza l'operazione da fare è un sostituisci, ossia bisognerà sovrascrivere il vecchio file con quello nuovo e aggiornato presente in Carchivio. Mentre per il file spese condiminali qui appunto è segnalata un'eliminazione effettuata in Carchivio e quindi ricapitolando la cartella backup archivio per aggiornarsi dovrà creare il nuovo file provadoc, sostituire il file aggiornato ed eliminare il file non più esistente. Se clicco aggiorna, tutte queste modifiche sono state effettuate, mi basta aprire backup archivio, aprire archivio al suo interno ed ecco ora magari andiamo di nuovo a confrontare la visuale con quella della cartella originale, quindi ecco c'è l'icona di risorse del computer, apriamola, apro C2 punti, apro archivio, cerco un po' di posizionare le due cartelle in maniera che si vedano entrambe, le due finestre in maniera affiancata, eccole qua e come vedete in backup archivio, archivio quindi sulla nostra pennetta c'è esempio, lettere commerciali, prova, in Carchivio che è l'originale c'è esempio, lettere commerciali, prova. Tutto risulta aggiornato, quindi una volta fatta la prima copia poi basterà fare tasto destro aggiorna come abbiamo fatto insieme per aggiornare tutte le eventuali modifiche, siano esse modifica i file presenti, siano esse creazioni di nuovi file, siano esse cancellazioni di file esistenti. Arrivederci e buon proseguimento di lettura sul sito www.infocorsi.it